ciao avete già deciso cosa fare da mangiare a pranzo a cena stasera io vi do qualche idea non delle ricette ma delle idee per cucinare tante cose con una sola pentola allora cosa ne dite di una pasta fredda qui abbiamo una casseruola che può andare su qualsiasi tipo di fuoco anche quelli a induzione è una casseruola capiente con il suo cestello che fa da scola pasta quindi voi vi potete cuocere non so le frafalle i fusilli quello che meglio credete per fare una pasta fredda e così scolate la pasta in un attimo poi mentre la pasta si raffredda e la condita e tutto quanto asciugate bene il fondo della padella rimettete il cestello riempite di olio e andate di frittura potete fare anche una frittura dedicata alle verdure zucchine melanzane pomodori tutto quello che volete e naturalmente le immancabili patatine fritte poi a mano a mano che la roba è pronta la scola che sempre con questo cestello asciugate bene mettete sulle fredda fritti e quindi avete un fritto leggero poi se per stasera decidete che ne so di farvi una peperonata una ratatouille o comunque un piatto che ha bisogno di cuocere un pochino più a lungo usate sempre questa padella questa pentola che ha un coperchio un coperchio con la valvola di sicurezza facciamo così perché sennò vedete si riflette il vetro comunque questa è la valvola di sicurezza quindi voi potete fare delle cotture lunghe abbiamo detto ma una bella ratatouille o comunque qualsiasi cosa che richieda oppure se volete cuocervi un bel sugo con col pomodoro magari un sugo di pesce qualche cosa vedete con una sola pentola voi avete le possibilità di cottura tra l'altro questo è una pentola che può essere usata su tutti i tipi di fornelli anche quelli a induzione è presente sul catalogo casa avon e costa solo 20 euro è un oggetto che come vedete da molteplici tipi di utilizzo e quindi io ve lo consiglio anche se soprattutto se andate in vacanza che ne so in camper o in roulotte perché con una sola pentola potete fare tante cose cosa ve ne pensate sempre ordinabili sul mio catalogo oppure direttamente a me ciao a tutte buon pranzo e buona cena grazie a tutti